Cari amici, buona domenica. Ci risentiamo per la conclusione di questo mese di gennaio. Fin da ora saluto Suor Giuseppina Donati che ci accompagnerà nell'introdurre, nel prepararci ai Vangeli delle domeniche del mese di febbraio. Noi ci rivedremo poi per il tempo quaresimale. Ebbene, siamo ancora nella sinagoga di Cafarnao. L'incipit del Vangelo di oggi è la conclusione di quello di domenica scorsa. Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Quindi possiamo dire che Gesù è nato per essere il compimento pieno di tutte le scritture. In Lui si realizza ogni promessa di Dio. Lui è la presenza salvatrice di Dio. E' chiaro che questo diventa un bel problema per i suoi interlocutori. Sapere che solo attraverso di Lui si inverano tutte le scritture, quelle su cui il giudaismo del tempo di Gesù e di ogni tempo fondava la sua fede. Sorgono subito due obiezioni, due obiezioni che anche noi avremmo fatto sorgere se fossimo stati tra i compaesani di Gesù. Ma questo qui è il figlio di Giuseppe, è uno di noi, è uno che conosciamo bene. Come può pretendere questo di dirci io sono il compimento di tutte le scritture? E poi, mettiamolo un po' alla prova, visto che Lui ha questa pretesa, perché non fa anche qui da noi i miracoli che sappiamo essere avvenuti altrove, in particolare a Cafarnaum? Fai anche qui nella tua patria quello che hai fatto là. Se notate sono due grandi modi di tentare il Signore, di metterlo alla prova. che sono sempre presenti, emergono qui e là come motivi di antifede, di rifiuto della fede. A Gesù non rimane che richiamare due casi, due casi particolari, intanto perché si tratta di pagani, la vedova di Zaretta di Sidone e Naaman il Siro. Due situazioni anche differenti dal punto di vista sociale. Una povera vedova che non aveva più nulla su cui contare, riceve la visita del profeta Elia, non c'è più niente da mangiare, il profeta le chiede di mangiare, questa dichiara, manifesta la sua impossibilità, e il profeta gli dice no, tu vai a preparare da mangiare, vedrai che la farina non diminuirà e l'olio non verrà meno. Questa donna crede, si fida, ascolta la parola del profeta e vedrà la sua vita rifiorire, trasformarsi. Naaman era un primo ministro, quindi non si tratta proprio di uno degli ultimi arrivati, si scopre l'ebroso. Anche i grandi di questo mondo si ammalano. E ahimè per lui non c'era soluzione, l'ebra vuol dire morte certa. Tra le sue schiave c'è un ebrea. E quest'ebrea gli parla del profeta Eliseo, uomo taumaturgico nella sua patria. E quest'uomo carica, cavalli, muli, tutto quello che può dalla sua terra, era ministro del re di Aram, cioè di Damasco, e va nella terra di Israele. L'incontro con Eliseo è stato un po' turbolento, per la verità. Ma poi il profeta gli dice una cosa molto semplice. Vai a lavarti sette volte nel Giordano. Quest'uomo va in crisi e per fortuna c'è sempre quella serva ebrea. A volte sono le persone più semplici, quelle di cui abbiamo bisogno. E questa serva ebrea gli dice ma se il profeta ti avesse detto di fare qualcosa di strepitoso, tu l'avresti fatto. Ti ha detto semplicemente di andare a lavarti sette volte nel Giordano. Quegli andò, si lavò e tornò che era risanato. Anche lui ha ascoltato alla fine la voce del profeta. Cosa vuole dirci Gesù? Che per trovare salvezza, per vedere il compimento delle scritture, abbiamo bisogno di accogliere la sua parola, di portarla a compimento nella nostra vita, attraverso l'ascolto. L'ascolto vuol dire la capacità di essere recettivi. Contrasta la capacità di essere recettivi la nostra sordità, che è fatta di tante cose. È fatta di indisponibilità del cuore, è fatta di pregiudizio, è fatta di precomprensione, è fatta delle nostre pretese, è fatta della nostra preoccupazione di autoaffermazione, di riuscita, è fatta del volere far valere le nostre idee. Tutto questo ci rende sordi. Ma quando noi siamo capaci di ascoltare Gesù, allora oggi si compie per noi la sua parola. Buona domenica, buon cammino a tutti voi. Buon cammino a tutti voi. Buon cammino a tutti voi. Buon cammino a tutti voi.